Queste le prime parole di Paolo Truzzo, nuovo sindaco di Cagliari. Noi abbiamo fatto la campagna elettorale dicendo che Cagliari deve ripartire dal mare. Da lì ripartiremo per costruire una città che abbia al primo punto lo sviluppo e l'idea che si possa fare e non l'idea che si debba dire sempre no a tutto. Questo penso che sia l'approccio principale che noi terremo e che dobbiamo tenere per mettere tutti i nostri concittadini nelle possibilità di sfruttare le straordinarie potenzialità che ha questa città e che purtroppo non sono state sfruttate. Ero convinto che si potesse raggiungere e ci siamo riusciti. Adesso ci sarà da rimboccarsi le maniche per far sì che tra cinque anni il patema sia minore. Credo che sia necessario investire risorse importanti perché la situazione è veramente drammatica. Il calo degli elettori quando si vota quattro volte in sei mesi, per di più si va a votare il 16 giugno, e fa il primo grande weekend di sole e a tutti viene la voglia di correre verso il Poeto, verso le località che ci sono nell'Interlanda di Cagliari, Villa Simius, Pula, e poi magari non si riesce a tornare per votare oppure quando si ritorna è troppo tardi, non si ha voglia. Penso che questi due fattori abbiano influito notevolmente e ci abbiano danneggiato. Grazie.